Ciao a tutti, ciao a tutti dal Magico Menestrello. Oggi parleremo di musica terapia, di eulistica e di energia. Siccome il suono dell'universo ha una frequenza di 432 Hz, noi dobbiamo allinearci con questa vibrazione se vogliamo entrare in ammonia con l'universo. E questo lo facciamo adesso suonando il Diginu che è accordato a 432 Hz, quindi ha la stessa frequenza dell'universo. Così cercheremo di sciogliere i blocchi energetici, di aprire i chakra e di stimolare la ghiandola pineale e come diceva Nikola Tesla, per comprendere i misteri dell'universo bisogna pensare in termini di energia, frequenza e vibrazione. Buon ascolto, ma prima di iniziare vi voglio dare qualche delucidazione su questo strumento. Questo è un Diginidu e appartiene alla cultura aborigena australiana. Questo Diginidu è stato costruito da me con un tubo di un metro e a un diametro di 40 mm. E oggi lo useremo per alzare le nostre energie. Buon ascolto a tutti. Grazie. 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 Grazie.